bene ragazzi oggi vi voglio mostrare velocemente questa questa ragazzi una piccola scheda serve per testare i pacchi batterie lidio a due connettori come vedi uno più grande uno più piccolo sono e diciamo due connettori simili perché hanno entrambi i due 20 pin però cosa cambia come vedi la distanza fra i pin stessi questo perché ragazzi perché quando vai a prendere un pacco batterie e vuoi vedere se c'è qualche serie che non funziona basta staccare il connettore dalla bms agganciarlo qui o qui in base al modello di connettore e i led accenderanno e ti diranno se quella serie cioè se una 3 s 4 s 5 s più s e il pacco batterie più led accendono per esempio il 3 s accenderanno una due e tre perché appunto sono tre celle in serie e poi andando avanti fino a 13 s 14 s 15 s eccetera 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 e ti dirà appunto se quel pacco batterie velocissimamente senza metterti lì col tester a testare tira severamente quel pacco batterie difettoso e ti darà l'idea immediata quale delle serie è quella per esempio che rotta perché solitamente ragazzi quando sono rotte sono zero volt ma questo lo sanno gli iscritti al mio corso corso webinar batteri maker questa ragazzi una cella 186 50 nuova di zecca una lg da 300 e 2 questa è una ricondizionata era montata in un pacchetto batterie utilizzato poco però guarda qui sempre una bella cella samsung 20 35 e poi ho anche tantissime 29 e qua ce ne sono alcune di quelle nuove niente ragazzi per maggiori dettagli io ti invito sempre al corso batteri maker lo troverai direttamente sul mio sito sotto in descrizione ti lascio anche tutte le informazioni questa gigino è semplice è economico ragazzi è davvero che aiuta ovviamente dopo aver visto se le accendono o non accendono vai a fare anche un controllo col multimetro e poi dovrai andare a agire sul pacco batterie per riparare i danni comunque questo per essere economico è un bel giochetto ciao ragazzi al prossimo video iscriviti al canale seguimi ciao ciao